Io mi chiamo Aysam Kuri, vengo dalla Tunisia, sono qua in Italia da un anno e mezzo, ma prima di venire in Italia ho studiato un po' l'italiano, ce l'ho a livello B2, nel mio paese ce l'ho la maturità, ho lavorato anche nel campo del turismo, ma qua in Italia per lavorare in questo campo ci vuole una certificazione. Allora ho cercato su internet tutto, ho trovato il corso addetto alle macchine utensili, mi sono detto perché no, un nuovo campo, dai. I primi giorni sono stati così così, ma poi mi sono sento innamorato con la macchina e tutto, e poi mi sono detto dai, dai avanti, e così.